Tanta emozione per fare 20 metri Si avvicinano centinaia di persone che io saluto sempre con affetto L'ho sempre detto, è la cosa più importante È un sindaco che sarà dalla parte dei cittadini Prima ancora di qualsiasi altra cosa, fondamentale È la prima festa e mi sento particolarmente felice di viverla insieme alla comunità C'è una bella giornata La città è attraversata da un clima di speranza C'è un nuovo sindaco, ci sarà nuova amministrazione C'è anche un tentativo, una volontà di rinnovamento dentro la comunità cristiana Ci sono premesse di speranza dentro la comunità Io vorrei proprio che questa festa fosse una festa di speranza Per la gente che lavora nel mondo dell'agricoltura Perché questo comparto è veramente importante Probabilmente lo sarà ancora di più nel futuro Ma un po' per tutta la nostra comunità cristiana Ci sono grandi interrogativi riguardo al futuro San Dionigi con la sua fiducia nella parola di Dio Ci invita a guardare con speranza E soprattutto a sporcarci le mani Perché il futuro si costruisce insieme Questa è l'unica possibilità che abbiamo Un'unica è l'unica nel cuore delle persone Ha bisogno della responsabilità sotto il mondo Ha bisogno che una libertà si faccia disponibile Di fronte al seme di Dio Ha bisogno che una libertà di Dio La parola opera dentro di me Cambia la mia vita Cambia lo stile di vita Cambia il mio modo di stare E quando la parola di Dio opera nella vita di me Un giorno del mondo particolare La solennità di San Dionigi Nostro padrono E compadrono della Dio E proprio a noi che siamo venuti qui Per il transiano del mondo di San Dionigi